Allora, avevo in mente due cose, vediamo se riesco a farle stamani. Intanto c'è una cosa importante che volevo trattare, spero brevemente, ma soprattutto in maniera comprensibile, che è quella del concetto di coping applicato a quello di stress ed è fondamentale anche per quello che abbiamo detto ieri, cioè l'ottimale comunicazione. Coping è una parola inglese intraducibile in italiano, se non con un significato più ampio. Cope vuol dire portare avanti, sforzarsi e contraddistingue tutte quelle capacità dell'individuo di fronteggiare, possibilmente con successo, un problema, una situazione, anche una situazione a rischio. Le caratteristiche del coping sono quelle relativamente stabili della persona per riuscire a mettere in moto le proprie energie. Abbiamo visto che lo stress attiva per gran parte il sistema nervoso autonomo che risponde in maniera filogeneticamente utile a queste situazioni, energizzando l'organismo. Se poi ce n'è bisogno, l'energizzazione continua ancora, cioè la messa in moto di tutti gli organi e apparati, se no, vi è una parte del sistema nervoso che tende a quietare tutto quanto, a mantenere a un livello più basso. Ma a livello psicologico è molto importante considerare che vi sono dei meccanismi che intervengono per far sì che la risposta emozionale, comportamentale, motori, eccetera, si canalizzi in un certo modo o in un altro. Non siamo solo stimoli e risposte per cui sì, ci batte il cuore perché il cuore batte per conto suo. Studiamo, diventiamo rossi, diventiamo bianchi a seconda del fenomeno vasocostritivo o vasodilatativo, ma questo è un aspetto. L'ho sottolineato perché? Perché da buoni occidentali abbiamo questa deformazione dell'uomo che non deve chiedere mai, siamo dei semi dèi nella nostra testolina un po' paranoidea. Secondo la teoria di Carlo Pruneti è probabile che siamo davvero gli angeli caduti dal cielo, quindi gli angeli demoni che ci hanno cacciato da qualche parte e ci hanno inserito nel corpo di un primate, perché se no non si spiega come mai tutti quanti abbiamo questa idea di eternità, non concepiamo la fine della vita, non accettiamo mai non solo l'invecchiare ma altre cose, non accettiamo i nostri limiti e questo non è soltanto suo poverino che è delirante, no, è diffuso in tutta l'umanità, bianchi, scuri, rossi, verdi o gialli, in qualsiasi fascia d'età. Abbiamo questo tipo di pretesa. Al di là delle teorie del Pruneti che siamo le angeli caduti dal cielo, il punto è proprio questo, andare ad analizzare le strategie che gli individui o i gruppi prevalentemente attuano per fronteggiare problemi. Quindi coping può essere descritto come un insieme di pensieri e comportamenti che l'individuo mette in atto conseguentemente a un evento stressante per cercare di fronteggiare. Quindi vi sono tante definizioni, una che io ho scelto e mi sembra opportuna è quella che vedete, ovvero gli sforzi della persona sul piano cognitivo comportamentale per gestire, ridurre, attenuare, dominare o tollerare le richieste sia interne che esterne poste da quelle interrelazioni persona-ambiente che vengono valutate come estenuanti, eccessive rispetto alle risorse possedute. Questa è la definizione, vedete, di Lazarus e Falkman del 1984. Quindi come si sviluppa all'interno di un individuo questo sistema? Perché gli abbiamo dato un'etichetta, abbiamo utilizzato l'inglese per comodità, perché è molto più breve della lingua italiana, se come vedete un articolo, chi di voi ha studiato l'inglese, gli inglesi sono molto più immediati, noi siamo molto più infiorettanti, il che non è male secondo me, affatto, però si utilizza in questo caso una parola, una label, un'etichetta perché è molto più semplice, andare ad analizzare gli sforzi che l'individuo mette in atto per fronteggiare le cose, coping. I requisiti, come vedete, del coping. Intanto si torno alle cose che abbiamo detto nella prima giornata, la valutazione cognitiva, qualunque stimolo, situazione che proviene dall'esterno, ma anche dall'interno viene valutata. Ecco di nuovo il peso che è sulle spalle di uno che vuole studiare il comportamento e vuole aiutare gli altri, in questo caso di psicologi, che dovrebbero studiarci bene questa cosa perché è molto importante riuscire a capire come funziona il filtro cognitivo, cioè come lei percepisce lo stesso avvenimento rispetto a lei, quasi uguale. Non c'è tempo ma c'erano dei test interessanti che si potevano fare, come per esempio la GEDV checklist, che è una lista di aggettivi molto lunga che descrive è una persona. Senza utilizzare tutti i 300 aggettivi, estapolando alcuni di questi, io potrei, non lo facciamo perché non c'è tempo, farlo fare a ciascuno di voi per valutare Carlo Prunetti, anonimamente. Noi cosa vedremo in questo caso? Vedremo un gruppo di aggettivi comuni, per chi ha studiato un po' di statistica avremo la curva gaussiana, la curva normale, c'è un gruppo consistente di aggettivi comuni che tutti scelgono e poi vedremo che ci sono altri aggettivi che vengono usati da poche persone, alcuni da una persona soltanto. Quindi, tornando all'esempio di nuovo del primo giorno, ricordate lo zio Sigmo Freud, l'io percepito, l'io reale è l'io ideale. L'io reale è quello che gli altri in maniera condivisa vedono di me. Bene, questo è il Carlo reale che sarebbe apparso a voi a un uditorio. Più è ampio l'uditorio, più sarebbe ampia la descrizione. Bene, ci sarà un qualcosa nella mente di ciascuno che avrà fatto scegliere quel dato aggettivo. Al di là della pura follia o di casi estremi della serie, ha appena fumato della roba tagliata male, è bene che cambi spacciatore. Escluso questo, oppure utilizzo di altri farmaci o di cose strane. Se tu hai un certo tipo di idea, vuol dire che dentro di te è schettato qualcosa. Ricordate, il primo giorno ho fatto un riferimento alla percezione, raccontando la storiella vera, peraltro, del mare, del tramonto, delle varie persone che reagivano in maniera completamente diversa rispetto allo spettacolo molto bello che c'era davanti. Ecco, succede la stessa cosa. La faccio un po' lunga su questo perché è veramente molto importante. Rispetto della soggettività non vuol dire condivisione, ma vuol dire semplicemente questo, rispetto. E se io voglio intervenire sul sociale, sul sanitario, ho bisogno di capire quella cosa importante, la valutazione cognitiva come prerequisito. Buongiorno. Non è possibile fare nessun tipo di intervento né conoscitivo, tantomeno terapeutico e di altro tipo, se non si esamina adeguatamente questo aspetto. Si può fare in vari modi, i tecnici lo fanno anche con degli strumenti, c'è un test che si chiama COOP, per l'appunto, che identifica i principali tipi. Ma al di là dei test psicologici e degli psicologi, è importante riuscire a capire almeno alcune di queste modalità, che cercherò di spiegare meglio successivamente. La caratteristica è lo sforzo successiva, ovvero l'efforting di Glazeck, che vuol dire qualcosa di più della normale routine. Quindi io esercito su di me una pressione per cercare di tirar fuori le migliori caratteristiche, capacità, energie. In questo senso lo sforzo è proprio l'azione volta A, quindi non è lo sforzo teorico, mentale o psicologico, ma è un'azione, lo sforzo che faccio per tradurre uno schema mentale in azione. Vi spiego? Bene. Lo sforzo è quindi richiesto. Un'analisi, anche questa psicologica, abbiamo accennato già questo, sono i comportamenti overt e covert. Attenzione perché vanno valutati, overt vuol dire aperto, open o overt, e covert coperti, nascosti. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo un linguaggio interno, abbiamo parlato ieri di comunicazione, che non sempre è così chiaro, però è possibile evidenziarlo. Ho fatto un esempio che è quello, per esempio, dello scrivere. Al di là della grammatica, della sintassi e delle regole del linguaggio scritto, se io scrivo, penso più volte, rifletto, io ho la possibilità di appuntarmi delle cose rivelando, per esempio, se è un qualcosa, ovviamente non scrivo, oggi è una bella giornata, c'è il sole azzurro, questo non viene fuori niente, se invece parlo di me, dei miei sforzi per raggiungere un certo risultato, qualcosa del mio colloquio interno emerge. Quindi anche al di là dell'intervento psicologico che può essere fatto, ci sono delle modalità per evidenziare questo tipo di caratteristiche. Bisogna mettere in conto che l'esito non è necessariamente positivo, quindi utilizzare meccanismi di coping non vuol dire raggiungere il risultato, vuol dire fare il massimo, ma poi può essere necessario, come diceva il buon Lazarus, una appraisal, una prima valutazione oppure una reappraisal, cioè valutarlo di nuovo perché non abbiamo, viva Dio, non è che ci piace a tutti partire per vincere, avevo detto che vinciamo sempre, che raggiungiamo lo scopo. Attenzione, arriveremo dopo, non so se ce l'ho qui la diapositiva o di un'altra parte, le risorse e quando uno cerca una cosa non la trova mai, eccola qua. È importante analizzare questo tipo di classificazione. Abbiamo da una parte le risorse e dall'altra le risorse. Le risorse sono sempre e comunque di questi due tipi, personali e interne, quindi i meccanismi che io metto in atto dalla nascita in poi avrò appreso, delle modalità per fronteggiare i problemi. Non è detto che siano modalità adattive o adeguate. Il problema può essere anche mia madre o mio padre, posso non condividere certe cose e per me è uno stress riuscire ad avere un buon rapporto anche con un familiare. Ci sono dei casi in cui non si riesce a gestire il problema in maniera adeguata. Cosa vuol dire adeguata? In maniera da non soffrirne, da non star male. Molto spesso per un quadro mentale che fa riferimento a una necessità di amore, come se si trovasse al posto del latte al supermercato. Mi dà un litro e mezzo di amore, di coccole, di considerazione. Sì, è un po' automatico ma bello. Dico questo perché l'iniziale conflitto è proprio con le figure genitoriali. Al di là non vuol dire non considerandole, ma oltre alle teorie dell'attaccamento c'è proprio un problema di relazione tipico delle figure maschili con la figura di riferimento che il papà, delle figure femminili con la figura di riferimento che la madre eccetera. Per cui ci possono essere situazioni per le quali la capacità di fronteggiare il problema non ha successo. Cosa vuol dire? Vuol dire che il problema rimane. Può non essere un problema così concreto, non è una pistola puntata alla tempia, non è necessariamente così grave, ma può essere una situazione di conflitto che si perpetua nel tempo. Mettiamo di una figlia con la propria madre che per cercare di farci fra virgolette amare cerca di da una parte di seguire o da una parte spera che si modifichi la madre, per dire. In questo caso ecco che si può andare incontro a una situazione circolare che gli inglesi chiamano loop. Io metto in moto le risorse per fronteggiare il problema perché ho uno stress, ho l'illusione o la pretesa di risolvere il problema che non mi si risolve e quindi nel tentativo di ridurre lo stress produco altro? Esatto. Faccio un esempio ai pazienti che sono molto rigidi, ossessivi, che hanno la pretesa di tenere tutto sotto controllo perché sono molto ansiosi, hanno l'alzi di prestazione e può essere adatto anche in questa situazione, cioè la persona precisa che vuole mettere un quadro in casa, allora prende giustamente tutte le misure, vede se c'è abbastanza luce, quindi è precisissimo, però è così teso che quando arriva a mettere il chiodo ha i muscoli così tesi che la terza martellata si dà la famosa martellata sul dito e quindi ha come risultato un dito nero. Ora a secondo del tipo di personalità o di meccanismi di coping la persona sarà così arrabbiata con se stessa perché ha dimostrato di non essere così preciso, così attento, di essere stato così cattivo con se stesso che si è fatto un dito nero che prende il martello con l'altra mano e si dà una martellata sulla mano cattiva che ha dato la martellata all'altra mano, con il risultato di avere due dita nere. In due modi. La prima risposta te la suggerisco con una storiella hindù. C'è un ragazzino che Metti stia mettendo a posto una staccionata fuori di una casa, di una villetta, di una casa di campagna e sta urlando e imprecando, si avvicina il maestro, il papà, quello che vuoi e dice ma cosa stai facendo, che succede? E lui arrabbiatissimo dice ma non riesco a sistemare questa cosa, ci ho provato in tutti i modi, sono qui un sacco di tempo e non riesco a farlo. E a quel punto con molta calma il padre o il maestro dice ma sei sicuro di avere tentate tutte? Ci ho detto di sì e questo è ancora più arrabbiato, dice allora dimmelo te che cosa ho dovuto fare, ti dico che le ho fatte tutte e il maestro o il papà le risponde dicendo una cosa non hai fatto, non hai chiesto aiuto. È molto importante questo perché all'interno del contesto occidentale che abbiamo qui ricordato tante volte. C'è questa pretesa dell'uomo che non deve chiedere mai, specialmente il maschio, abbiamo detto dell'aspetto maschile, noi siamo purtroppo condizionati da questo, la verga che ci rappresenta, vir viris viene da questo, da verga, cioè da ramo, come se noi fossimo un pene impersonificato. Questa è una cosa che ci portiamo dietro più o meno inconsciamente. Qualcuno, non mi ricordo che diceva non ci si rivolge allo psichiatra, allo psicologo perché si pensa qual è il pensiero più o meno cosciente. Lui ce l'ha più grosso di me, gli si rizza meglio, tra virgolette, un po' alla bossi, noi ce l'abbiamo duro, cosa del genere, stupidaggine del genere. Allora, attenzione perché questo in maniera, io lo verbalizzo ora, però in maniera subito, l'accede tra di noi e l'aspetto depressivo che citavi secondo me a proposito, Dino, è proprio non tanto depressivo, depressione endogena, poi ci sono anche quelli poveracci che nascono con una predisposizione di questo tipo, ma spesso è proprio dovuta alle aspettative troppo elevate verso di sé, quindi a porsi degli obiettivi eccezionalmente elevati, oppure ipervalutare, quindi o sottovaluti la realtà, pensando che non si può… Certo, è proprio quello che sto dicendo, quindi hai una sottovalutazione della realtà o sopravvalutazione di te che ti porta alla frustrazione e quindi l'autostima non la compri come l'amore al supermercato, la costruisci, ma se sei sano, se tu parli con un ragazzino molto più giovane dell'età media di persone che sono qua, ha la pretesa di essere sicuro di sé e si atteggia, ma la sicurezza, Dino, mi ha spiegato alle persone che emettavano questo tipo di depressione, viene fuori la sicurezza, mi viene da dire la vera sicurezza, ma è preonastico, la sicurezza o c'è o non c'è, la sicurezza viene fuori dall'esperienza, dal latino esperire che vuol dire toccare con mano e siccome anche se vivi 500 anni non potrai toccare con mano tutto, non potrai mai essere sicuro ed è questo il concetto chiave che va spiegato a chi per esempio lavora in comunità o nel sociale, con molto garbo e attenzione e spiegare ad Anna se è sicura che arriverai viva domattina, che ne sai, per quanto ne sappiamo ci può cadere il palazzo comunale in testa e arrivederci e grazie, facendo tutti i debuti scongiuri del caso, però è proprio questo ricollegato a quello che dicevo prima, la deità che abbiamo nella nostra testa, finché non ci succede qualcosa e ci troviamo una corsia dell'ospedale, se ci va bene, non ci rendiamo conto della caducità della vita, tendiamo a dimenticare, ci fa male qui, va bene, non importa, non è niente, e così via e abbiamo questa spinta alla sicurezza, abbiamo questi modelli socialmente molto frequenti dell'uomo, della donna, ora da qualche decennio si insiste moltissimo sulla donna, quindi la donna forte che non deve chiedere mai, che è una cosa altrettanto stupida dell'uomo forte che non deve chiedere mai, se mi permettete non c'è proprio differenza, allora il problema è proprio quello educativo ed ecco l'educazione alla gestione dello stress, tre punti che ho cercato con questo esempio di illustrare, uno, la spiegazione del concetto di base che riguarda il coping, in questo caso le risorse interne sono cose che tu ti devi essere costruito, non le compri, le risorse interne per quanto tu ne abbia sono geneticamente predisposte e costruite in base alla tua esperienza, se sei vissuto in un sacchetto non avrai esperienza, se non hai esperito non hai strumenti e nessuno potrà venderti, regalarti questa sicurezza. Mettiamo che io sia fobico dell'aereo, vado sull'aereo, chiudo gli occhi e me la presti la mano, stringimi la mano, posso stringerti la mano? Ma è lei, appunto lo so, andavo a casa, ho scelto te, io ti stringo la mano e mi sento sicuro, tu sei seduto accanto a me sullo stesso aereo, una cosa di una volpinata incredibile, allora esempio di linguaggio interno e di spreco di risorse di coping, perché cosa attingo alle mie risorse personali, cosa c'è un passaggio energetico come quello che ci diceva Ada l'altro giorno del tipo, no, 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 Annalisa, chi gli ha messo l'elettrodi in mano e si vedeva tutto il corpo e le parti che non andavano bene e quelle che non andavano male, vabbè, e io rispondo semplicemente se esiste dimmelo, lo usiamo tutti, voglio dire, no? La polemica si potrebbe allargare, perché i miracoli li fanno a te e non a me, lo voglio anche io il miracolo, no? Oppure la panacea, il farmaco miracoloso e così via. Mi disperdo un attimo su questo, però è importante e quello che ha detto suscita il problema e vediamo di allargarlo un attimino. La persona con un atteggiamento di disistima, ma anche le persone presunte sane, hanno queste oscillazioni che non accettano, perché appunto vi è questa impostazione mentale assurda e non realistica di fermo, di immobile, allora io, capito? Especialmente quelle tizie di quel sesso là, che non è il nostro, hanno delle pretese assurde, sono schiave di 2700 ormoni, cicli di lì, cicli di là. Chi è sposato sa come deve sopportare queste cose, che quando c'hanno l'ovulazione sono isteriche, non le puoi toccare, quando c'hanno il giorno prima di mestruazione c'hanno la piangina, no? Poi vogliono fare l'anno, non devono chiedere mai. Ora, a parte le battute, noi abbiamo dei ritmi circadiani che non seguono la luna, perché sono onulatiche e noi siamo chissà cosa, però siamo scavi più o meno di queste faccende qua, il fatto stesso che la psicologia sia l'ultima delle scienze, vuol dire che esistono delle leggi che ovviamente regolano il comportamento umano, non ce ne sono, non sono state scoperte così tante come nella fisica, nella chimica, nella biologia, ma essendo figli dell'universo siamo all'interno di un sistema che ha delle regole, è chiaro che il nostro comportamento è regolato. Avete mai pensato? Per cui il libero arbitrio doveva finire. Allora è una libertà condizionata. Ma mica tutti la pensano così. Quindi la libertà condizionata non è libertà. Se entriamo in questa logica che ci ha aiutato a far venire fuori lei, abbiamo meno possibilità di morire frustrate. Per cui tu e io siamo liberi di pensare, di essere con i capelli lunghi fino qua, di essere sulla luna, di avere le ale, di scavalcare lì e volare fino alla colina di fronte, di pensarlo. Di pensarlo. Attenzione che in questo mondo c'era la pubblicità della Fiat di qualche tempo fa che diceva se puoi puoi pensarlo, puoi farlo e quindi ora io e Dino ci buttiamo e vogliamo fin là. Questo esempio idiota, però in media c'è una pressione esterna che è su questo. Per cui molte persone arrivano a una disistima non perché sono nati con il genere eccessivo, con l'allele della disistima, ma perché partono, pensano di poter volare fino alla collina, poi si accorgono che non è proprio così. Per cui o si drogano come matti prendendo qualche chilo di cocaina, perché così stanno svegli come dice la Anna, spesso H24, non l'ho mai sentito dire ma l'ho imparato qua. Quello che lavora la mattina, pomeriggio, sera, dorme tre ore per notte perché deve fare soldi, poi deve fare quell'altro e poi deve fare lì. Poi ovviamente ogni tanto uno li trova morti perché ovviamente hanno un bel collasso cardiocircolatorio e vabbè, amme. Però oggi, da un po' di tempo, questo è il modello. Avere 5 case, 12, 54, quello che vuoi. Ma se sei in montagna non c'è il mare, se sei in città non c'è in campagna. O pensi di essere come Dio in cielo e intero in ogni luogo? Sì, pensi di essere come Dio in cielo e intero in ogni luogo. Cosa c'entra questo col coping? Le risorse interne e personali sono quelle realmente possedute. Non sono le idee di grandezza, le paranoie. Io posso tutto. Io sono invincibile. col mantello, no? Non facciamo nome. Ok? Per quanto tu puoi essere bravo, puoi essere di successo, quello che vuoi. Quindi, molto importante è riuscire a comprendere questo e l'ultima parte della domanda che ha fatto Dio è più complessa. Cioè, la domanda è semplice e complessa la risposta. Cosa puoi fare? Intanto insegnare la prima cosa che ti ho detto. intanto scendere su un livello più terreno e chiedere aiuto con tutti i problemi che ho citato prima. Non è così facile, non è così semplice. Non è facile nella vita, ma hai qualche anno anche te, no? Di cosa c'è facile nella vita? Quasi niente, eh? Però è molto importante dirlo. Dice, guarda, io, che ne so, nella mia professionalità, che è questa, non sono Gesù che risuscita l'albero, sono un educatore, sono un assistente sociale, sono un esperto in materie giuridiche, sono un medico internista, sono uno psichiatra, sono uno psicotera, quello che ti pare, all'interno di questo io ci sono. Però io non ti posso travasare, perché ho letto 57 libri di scienze ed educazione, la mia cosa. No, posso interagire con te, avere un certo tipo di colloquio e vedere di formare, però questo può essere uno spunto importante. Capire che le... Non tanto anche con queste serie, se c'è un'automobile che riescono, che riescono a... Passano, non hanno uno stimo a sentire, però in un percorso veramente un po' di più, ma io ho capito, perché non si è un po' di più, ma 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 è un po' di più. Quindi riescono poi ad arrivare in pochi, così sono veramente scoperte. Invece c'è una mascia di personalità, di persone che è molto difficile in questa parte. E qual è? Il suggerimento che do sempre è quello di far fare il mestiere loro a chi lo so fare sperando che lo sappia fare. In ingresso, al posto di fare solo un test clinico, sarebbe interessante fare un test sul temperamento per vedere come sono indirizzate queste persone. e perché no fare anche un test sul tipo di coping prevalentemente utilizzato. Lo vedete sopra, le risposte di coping, le crasse di risposte sono quelle che vedete, quindi un coping orientato al problema, quindi tutta una serie di comportamenti, reazioni, orientate a gestire il problema e a risolverlo. Il coping orientato a gestire le proprie emozioni in maniera da non essere né troppo attivato né troppo poco e orientato all'evitamento della situazione. Domanda tra bocchetto, quale di questi tre meccanismi è patologico? La risposta è sbagliata, ma vi consolerà il fatto che questa cosa è stata detta a un congresso da un collega. Nessuno di questi è patologico di per sé, perché se al posto del dottore lì è assessore, c'è una tigre del regala, cerchiamo di andare via. Cosa fai per fare bocchetto a miso a miso? Quindi è chiaro che l'evitamento può essere una risorsa. Non riesci... Scusami... La possibilità nelle diverse attenzioni, la possibilità di non avere un atteggiamento di risoluzione. Ok? Quindi, puoi avere un atteggiamento, può essere più o meno testardo, ma a un certo punto devi comprendere che arrenderti può essere opportuno. Se no fai come Paperino, per chi legge i libri di Walt Disney, come me, che insiste, 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 fino a arrabbiarsi come una bestia, fino a rovinarsi la giornata a lui e agli altri, e vi sono questi soggetti. Per cui il coping orientato al problema, se viene utilizzato in maniera esclusiva, può essere altrettanto sbagliato degli altri. Le emozioni le devi gestire, perché in una situazione di allarme, se ti fai prendere da una crisi isterica, non solo non risolvi il problema, ma rompi le scatole al prossimo. Ogni riferimento al sesso femminile non è affatto casuale, ma questo non vuol dire che solo le donne hanno delle crisi isteriche. Assolutamente no! Ce l'hanno altrettanto i maschietti e pur avendocelo in maniera meno frequente del sesso femminile, quando ce l'hanno sono ancora più pericolose, tra l'altro. Però anche qui, reprimere completamente le emozioni non ha senso, perché ricordate e dite a chi poi, eventualmente, alle persone con le quali vi trovate a interagire per le vostre professioni, che appunto non siamo degli dei, che le nostre energie sono limitate. Per cui, se impieghiamo tutta la nostra energia per controllare le emozioni, poi non abbiamo più per risolvere davvero il problema, la situazione. Quindi hai un atteggiamento da donna, sì, o da uomo, sì, che non deve chiedere mai, hai fatto, sei stato bello, incorruttibile, perfetto, l'immobile, il problema è pure rimasto di tale quale. Quindi il giochino, vedete, è articolato ed è importante, quindi, per chi dovrebbe farlo di professione come lo psicologo, è importante che valuti i tratti stabili, quindi la personalità, il temperamento, il carattere. Perché questi danno un'idea di quale possibilità di avere una specie di magazzino di possibilità di risorse, di modalità ci può essere. Questo però non è sufficiente perché poi ci vuole un'analisi anche del coping a livello delle capacità. Non so se mi spiego. ci può essere il barbone che viene trovato morto, poveraccio, sui suoi cartoni e poi scopri che ha due milioni di euro in banca. avere due milioni di euro non mancano, è una condizione necessaria per fare ricco ma non sufficiente perché lì devi adoperare. Ci siamo? Quindi tu puoi avere un bagaglio di possibili risorse ma per qualche ragione non lasciare operare bene. Bene? Le risorse esterne e ambientali sono altrettanto importanti. Quindi io ho un'amica e so che posso contare su di lei. Questo non mi autorizza a chiamarla ai due di notte per raccontare i fatti miei. Allora, da un punto di vista psicologico e per i meccanismi di coping ovvero per far sì che io possa sentirmi più rassicurato non è necessario sapere che lei mi darà i famosi due milioni di euro cash ma è importantissimo ed è sufficiente sapere io ho la coscienza e una certa sicurezza che ho alle spalle una famiglia d'origine una famiglia nucleare un amico o un'istituzione come usando un'altra paraprasi o un'altra piccola storiella hindu in questo caso mi piace come forse avete capito un po' certe teorie sono un po' affascinato come molte teorie orientali buddiste eccetera che raccontava della donna e diceva la donna è come è un fiore o un uccello bariopinto prezioso e del quale non ti puoi appropriare perché se lo prendi il fiore dopo minuti ore o giorni muore lo stesso accade per un bellissimo uccello vario pinto pensate all'uccello del paradiso altre cose se lo prendi lo metti in gabbia o muore o si deprime quindi lo puoi prendere lo puoi portare con te ma trova una gabbia molto grande e libera e soprattutto lascia la porta aperta perché se resta con te vuol dire che ti ama se se ne va e torna vuol dire che ti ama se se ne va e non torna più vuol dire che non ti ama non ti ha mai amato carina mi è piaciuta? vedo un sorriso? eh? eh va bene non l'ho ripetata io l'ho solo letta e me ne sono appropriato perché diciamo è vicino alle mie convinzioni ecco tutto questo è molto vicino al significato che voglio dare cioè non c'è bisogno che lui mi prenda fisicamente in braccio e mi coccoli vieni qua Carlino caro no? può essere importante e è essenziale per sviluppare buoni e adattivi meccanismi per fronteggiare lo stress visto che in questi giorni abbiamo parlato di questo io so che posso contare su Dino assolutamente sì e ovviamente viceversa perché se no non funziona abbiamo già detto sulle pseudo amicizie eccetera eccetera ecco questo schema è fondamentale per cercare di capire valutare e utilizzare in maniera appropriata i meccanismi di coping sembra complicato in effetti lo è questo è il modello originale di Folkman e Lazarus del coping vediamo che cosa vuol dire attenzione non si legge forse benissimo ma c'è una una specie di grosso universo in alto vedete quella grossa linea che sta per la prima valutazione che io faccio di un problema in inglese secondo Lazarus era la price o valutazione primaria quindi io valuto una realtà una situazione un evento stimolo che può essere positivo vedete se è positivo valuto delle risorse e capacità di fronteggiare questa minaccia ma non mi interessa più di tanto se è irrilevante non faccio assolutamente niente e vedete l'evento stimolo può in qualche modo condizionare la messa in moto dei meccanismi soltanto se io percepisco adeguatamente il contesto ricordate che il contesto è fatto dall'evento dalla valutazione cognitiva da sapere o meno attingere dalle mie risorse quindi ho fatto vedere l'area positiva di prima per questo motivo se lo stimolo invece rappresenta una minaccia un pericolo una sfida ecco che la valutazione delle risorse si attiva in maniera massiccia è una situazione che avviene in frazione di secondo non in ore o giorni e se si ritiene che le risorse siano adeguate si attiva da una parte la risposta di stress che in gran parte è automatica e si mettono in moto le risorse di coping per cercare di gestire il problema vi sarà un esito se l'esito è positivo vi sarà una valutazione dell'esito del nostro intervento e tutto può finire lì se invece la situazione persiste ecco che si modificherà l'iniziale valutazione della cosa perché mettiamo io non ho adeguatamente stimato o le mie risorse o la gravità del problema e cercherò di rivalutare tutto quanto per cercare soluzioni alternative non ho mai capito che diciamo che in questo caso è un colloquio interno della persona di se stessa come tale è una strategia che viene scelta e se è possibile non sempre è possibile vi possono essere strategie sussidiarie cioè un'alternativa o un arricchimento della strategia 1 o strategia 2 non è così semplice anche se il modello sembrava molto complesso lo è ancora di più nella realtà perché come ho cercato di spiegare prima vi è il problema che spesso non accettiamo di perdere non accettiamo di perdere per cui siccome abbiamo studiato una strategia o altre volte è stata positiva insistiamo non ci vediamo conto che forse esempio classico nel settore sempre di questi signori qua nel settore un po' di tutti diciamo mettiamo che una di voi abbia una relazione con una persona a un certo punto scopre che questo è un toscodipendente o comunque una persona dedita alle sostanze a quello che vuole a seconda di certe tipologie di personalità si può instaurare la sindrome o la situazione io ti salverò croce rossina psicologa psichiatra c'è una bellissima maglietta estiva io che racconta queste cose e il mio amore ti farà passare tutto quanto io ti amo così tanto che il mio amore ti avvolgerà come una bellissima un bellissimo plaid e io ti basterò basta tu ti disseterai della mia fonte di sanità di vita e tutto questo e tutti mi saranno felice e contenti bene questo ovviamente non accade mai e se io l'amo così tanto mi vuoto tutta la mia vita su Maria Grazia numero uno giusto e poi c'è la Maria Grazia numero due e spendo il mio tempo le mie energie e normalmente usualmente cosa succede che Maria Grazia per un po' segue certe cose e poi ovviamente ricade nel problema anzi ma io non mi scoraggio e dico dove ho sbagliato io e di nuovo fino a arrivare a quasi delle estreme conseguenze vi possono essere altri esempi io ricordo in maniera molto chiara perché ero molto giovane ed era la prima volta che lavoravo con i disturbi cardiovascolari in questo caso la sindrome X o l'ischemia miocardica cioè abbiamo accennato il primo giorno i vasi possono costringersi per uno sbilancio simpatovagale dicono giustamente cardiolosi provocandomi il dolore anginoso la cosiddetta angina pectoris e ricordo perché rimasi soccato ero ai primi tempi che lavoravo ero la ricercatore esterno del CNR in fisiologia clinica che era questo reparto dove arrivavano queste persone in fase post-acuta e ricordo la signora Rosa sono passati una marea di anni alla quale facevo dei test psicologici e una registrazione con un apparecchio molto meno diciamo all'avanguardia di quello che avete visto che vedrete alla fine di ottobre per valutare il quadro generale facevo anche il Rorschach di psicologi sanno di cosa al tempo e la signora Rosa aveva una storia di questo genere cioè la signora Rosa teneva su una famiglia fatta da un padre cioè dal marito che era un etilista un figlio era in galera l'altro figlio era anche venuto a suo dipendente la figlia aveva era una ragazza madre e lei teneva le colla di tutta questa cosa era del sud non mi ricordo bene probabilmente Campana non mi ricordo bene e aveva una storia appunto di questo tipo e si vedeva chiarissimamente come il tipo di educazione che aveva ricevuto la forzasse in questo ruolo di non so l'immagine che a me veniva era della Madonna addolorata avete presente la Madonna con i pugnali infilati e questa con un sorriso tristissimo raccontava tutte queste faccende a un giovane Carlo Pruneti e io gli dicevo ma come caspito fa a reggere tutto questo e il terzo giorno che andai a fare la visita alla signora Rosa la signora Rosa non c'era più la ricordo vedete mi scioccò abbastanza perché non ero così preparato era giovane la morte all'interno di una situazione del genere di così grave sofferenza eccetera la ricordo ancora ricordo il nome della signora ricordo la sua faccia appunto perché mi scioccò abbastanza ecco questo è un esempio forse ancora più chiaro però di come non siamo così disposti a mollare di come in effetti noi siamo rigidi e non plastici e non siamo così automaticamente disponibili a prendere la soluzione B o la strada C o la F che delle volte sono lì davanti o a fare quella cosa banale ma fondamentale che è chiedere aiuto maschio o femmine che sia e mi permetto di dire una cosa per gli esperti un pochino per gli esperti attenzione perché anche un atteggiamento apparentemente positivo può nascondere invece una situazione problematica mi riferisco di nuovo alle differenze fra i due sessi mentre il maschio appunto fa l'uomo dove chiedere mai e quindi non chiede oppure va lì e pensa di essere allora io vengo da te e quindi se ho bisogno di te non valgo niente oppure tu sei un genio io sono un povero ebete no io sono un fesso qualunque che fa un mestiere cosa c'è io sono come l'idraulico perché se chiami l'idraulico ti senti defraudato di un qualcosa no semplicemente se ci metto le mani io non so cosa fare e fa un milo dei guai quindi chiamo l'esperto che viene a mettere la caldaia ho un problema nel gestire questa cosa e chiamo no lo psicologo lo psichiatra soprattutto lo psicoterapia vengono visti dai maschi soprattutto come non ho le cosiddette ho bisogno che mi presti le sue dall'altro canto le femmine hanno un atteggiamento tipicamente femminile non tutte quelle che sono un pochino hanno scarsa capacità di gestione le proprie emozioni vengono e dicono mi salverà lo so lo vedo lo sento io ho tanto bisogno guardo ho già capito che lei e questo ovviamente è un meccanismo tipo manipolatorio che è ancora più pericoloso dell'atteggiamento maschile perché si aspetta che lei entri dentro di me e mi risolva lei i problemi per me ovviamente non funziona così perché non sono nel pozzo della verità né della scienza e non posso far niente non posso modificare un altro abbiamo già fatto l'esempio del psicoterapeuta il tizio con la pertica in mano e con in cima la lanterna per mostrare la strada questo è il massimo che possiamo fare quindi attenzione questo ha a che fare col coping e con altre cosine che gli psicologi nei decenni sono riusciti a delineare che possono essere utili però per un sacco di operatori nel sociale nel sanitario eccetera i soggetti più esternalizzanti o internalizzanti te li ricordi? bene alla po' delle spieghi in breve perché ormai ho detto una cosa sarebbe maleducato se non brevissimamente la portasse avanti è stato descritto in maniera molto accurata una modalità per cui una persona pensa di essere al centro del mondo e quindi di poter modificare le cose e questo per noi significa anche un'assunzione enorme di responsabilità come dicevo prima della signora Roda quindi è colpa mia quindi se una cosa non riesce le cose dipendono solo da me se piove a Taranto è un'impersonificazione una specie di Dio che cosa potevo fare quindi anche qui è chiaro che una persona internalizzante quindi che ha una buona visione di sé e dice no io ce la posso fare non aspetta che devi l'aiuto dal governo muove il sederino e va si rimbocca le maniche e fa questo è positivo come al solito è troppo stroppia c'è una vecchia barzelletta di Sant'Antonio che si racconta nel Medioevo c'era questo mino alto un metro e niente che non riusciva ad andare a cavallo nel paese come il vostro ma forse più piccolo era molto più piccolo lo prendevano in giro schi parte da Crespiano va fino a Padova dal Santo richiede la grazia dice voglio salire a cavallo davanti a tutti poi ritorna giù e va nella piazza di Crespiano mettiamo qui sotto della Madonna della Neve con un baio bello tutti lo guardano lo mino un cavallone e questo prende la rincorsa monta sul cavallo troppa spinta cade dall'altra parte tutta la piazza che ride lui rivolto troppa grazia Sant'Antonio e poveraccio e questo è un sistema che questo è un esempio che evidenzia questi due aspetti uno è l'internalizzante cioè io ce la posso fare e l'altro è l'esternalizzante io non posso fare niente è il fato è la sfiga è la sfortuna quindi cosa vuol dire c'è in tutti e due gli estremi come spesso accade il troppo stroppia un enorme un enorme rischio di abbassamento di autostima perché se tutto dipende da me cosa che non è assolutamente vera io mi posso sentire responsabile o addirittura in colpa io non ho fatto abbastanza per te e tu continui a drogarti veramente la malagrazia ma insomma anche te al contrario non posso fare niente non ci posso fare nulla mi è passato il gatto nero davanti e tutto è ripreso da questo e noi abbiamo questo tipo di pensiero di cui abbiamo accennato anche questo il primo giorno pensiero ricordate causale che è un pensiero tipo lineare A causa B sono passato sotto la scala è la scala che porta sfiga se tu imprudente passi sotto una scala con l'imbianchino di sopra è chiaro che è molto probabile ma il tizio che cammina su marciapiede li casca al vaso dal quinto piano in testa lo ammazza quella la sfiga pura perché no come capitano a volte nella però se ti metti appunto a pensare a questo non vai più su marciapiede non cammini più non vai in aereo non vai in macchina non scendi le scale non cammini per strada quindi non vivi quindi giustamente come alcuni depressi estremi fanno cercano di concludere la loro vita perché vedono la loro vita come ingovernabile non più nelle loro mani quindi coping vuol dire avere delle possibilità di affrontare i problemi della vita che la vita inevitabilmente ci mette davanti anche qui appena trovate la ricetta giusta la regola perfetta se me la date anche a me io sarò molto lieto di leggerla e di prenderne altro come si fanno ad esagerare dei piedi là? si acquisisce esperienza cerca di essere umili e calmi e come dicevano i nostri vecchi amici miei impara l'arte mettila da parte nel momento buono la puoi tirare fuori se hai queste caratteristiche e predico come vedete un po' l'umiltà che invece oggi non è molto di moda per niente Francesco Papa escluso ok? viene penso apprezzato da molte persone non necessariamente cattoliche romane professanti comunque al di là di questo vediamo di arrivare alle due specifiche a parte che le ho già dette però due specifiche ancora sui meccanismi che ho descritto prima vedete la strategia centrata sul problema ricerca le informazioni va in conto a una presa di decisione mette in moto delle azioni dirette che cercano di affrontare la situazione il problema o la emergenza questo male in tutte le situazioni mi raccontava posso dire una cosa a tua privata in pubblico sì o no? sì mi raccontava ieri sera Anna che arrivata a preparare un esame per cui doveva fare una tesina scritta aveva salvato siccome è vecchia d'età le cose su un floppy disk a un certo punto è arrivata a stampare il contenuto del floppy si aprivano tutti i file meno il file dove era la tesina scritta che doveva il giorno dopo portare al professore che non ero io ovviamente ti può venire un attacco di panico può morire lì secca può piangere disperata può insultare tutto il mondo può imprecare in sanscrito può fare cinquemila cose e poi cosa ha dovuto fare? ha dovuto prendere le sue risorse ovviamente imprecando sottovoce in cinese e giorgiano che è una lingua saputo tutta particolare che assomiglia al basco non si sarà dove venga anche una scrittura e ha passato tutta la notte anche lì con un ricco di caffè e 300 imprecazioni all'ora e si è riscritta tutto quanto arrivando il giorno dopo a consegnare la tesi ho detto bene ok quanto ha preso poi eh nemmeno male ecco lei ha utilizzato questo cosa poteva fare ha utilizzato questo tipo di di schema le strategie centrate sull'emozione e sull'evitamento possono portare all'accettazione al compromesso all'istacco mentale o comportamentale alla negazione tutte queste cose possono essere estremamente utili perché in un momento di eh se qui in questo momento c'è un terremoto reagiamo in 5.000 moti diversi c'è chi urla chi va subito nelle scale che è il posto invece da evitare l'ideale sarebbe avere un iniziale di stacco mentale fermo allora vi devo ricordare cosa si fa nell'emergenza quindi non devo stare in mezzo alla stanza ma devo stare sotto l'architrave devo evitare gli altri ma prima mi devo mettere in sicurezza io e così via questo si chiama sangue freddo ma anche qui se ce l'hai e sei abituato a utilizzarlo bene se sei abituato all'urlo isterico ahhh aiuto no se sono abituato ad andare in aereo tenendomi a lei per mano cerco qualcuno che mi aiuti ma siamo tutti sulla stessa barca ok però può essere molto importante se non esagero arrivo alla negazione negazione vuol dire no non è niente ti preoccupare non è niente no no mi devo tranquillizzare non è niente non è niente non è niente mi si apre la voragine sotto i piedi vado giù arrivere bene arrivere grazie quindi vedete una combination di questi due può essere che abbia utilizzato anzi sicuramente l'ha utilizzato Anna nel suo episodio perché lì per lì gli è venuta una mezza crisi isterica voleva mangiarsi in floppy poi gli è stato imperito dalla tizia della copisteria poi ha dovuto accettare la cosa ha trovato un compromesso con se stessa ha detto porca però più di tanto provo aprirlo provo aprirlo provo aprirlo riprovo alla quarantesima volta non mi mangio il dischetto perché comunque mi serve e accetto con un minimo di distacco mentale veramente era lì che picchiava pugni sulla scrivania comunque con un minimo di distacco mentale accetto la cosa mi rimetto in moto prendo una decisione e che devo fare la rifarò e mi attivo direttamente me ne torno a casa un po' mogia un po' arrabbiata cerco altre informazioni nella mia mente mi metto lì e scrivo di nuovo semmai chiedo a Giovanna che vive con me mi dai una mano per piacere mi leggi queste due cose che l'hai fatto davvero? no perfetto l'esempio ha funzionato? va bene? ok due concetti perché appunto sennò diventa una lezione troppo noiosa cioè vi salto alcune cose ma mi mi fermo su quello che io ritengo più interessante per voi nel caso mi fate come al solito delle domande a parità di risorse e di evento stressante una percezione negativa delle proprie risorse si associa ad una maggiore vulnerabilità allo stress mentre una percezione positiva rappresenta un fattore pronosticamente favorevole è chiaro? quindi meglio essere un esagerato pessimista un esagerato ottimista perdonatemi entro certi limiti che un pessimista dov'è il limite? vi ricordate la legge di Yerky-Doson no? il picco è difficilmente identificabile anche in questo caso della serie beh insomma però io sono non sarò l'uomo che non deve chiedere mai però insomma sono arrivato fin qui qualche risorsa ce l'ho insomma dai su qualcosa posso fare senza esagerare nel senso vincerò anche perché questo porta non solo alla frustrazione nel caso tu non vincessi ma a un atteggiamento opposto che è quello della denial della negazione per cui possiamo avere lui che dice io non parto se non sono sicuro di vincere e vi sono un sacco di persone che limitano la propria vita non solo non fanno le gare non è la gara ma dice no ma quello non mi interessa è un po' infatti questo è un altro tipo di caratteristica che in parte rientra in quello che sto dicendo ma è molto importante non l'abbiamo definita estroversione introversione l'estroverso è colui che non ha molti problemi a mostrarsi e in teoria ha più facilità a prendere contatti con le altre persone l'introverso è la persona più chiusa che ragiona molto che diciamo ha difficoltà nei contatti interpersonali e preferisce un atteggiamento più caratterizzato dalla solitudine che dalla compagnia come al solito nel nei tratti intermedi va tutto bene gli estremi delle due cose sono pericolose perché la persona troppo introversa è la persona invadente rompiscatole che parla sempre è logorroica che semmai ti tocca anche mentre parla come si diceva l'altro giorno la persona introversa troppo chiusa è la persona che non si mostra mai che quindi corre il rischio e ci sono due tipi di stress diversi uno legato all'eccessiva presenza e quindi nel non tener conto dei messaggi la persona eccessivamente estroversa la persona è la persona cosiddetta valanga per cui è irrefrenabile non la puoi fermare e con queste persone è difficilissimo attivare un livello adeguato di comunicazione sai come dicevano gli abitanti di Massafra o Massafra Massafra dicevano escusazio non petita se accusazio manifesta perché non conosci bene il dialetto pugliese però se ritornando un po' al fatto se io non sono sicuro di vincere non parto ma se non parti come puoi di vincere cioè già parte sconfitto ci si vince se non sono sicuro di vincere ma se non proviene anche non vedo cioè la prima risposta è sicuro che non vinci ma perché non parti ma mi si è chiaro che uno deve avere anche questo questo ottimismo dentro che comunque so di avere delle capacità nel messerlo in pratica e poi è chiaro ma se hai una visione del mondo per la quale la perfezione è il minimo da raggiungere ecco che hai questo tipo di reazione un esempio su tutti è la persona affetta all'anoressia mentale per la quale non vi sono limiti se non la perfezione e la l'anoressia la persona che ha poi vi sono altre persone che sono diciamo molto attente al perfezionismo perdendo quindi di vista il quadro generale della situazione e come detto giustamente succede proprio questo molte forme di depressione vengono fuori da un esagerato atteggiamento di questo tipo perché ovviamente la persona restringe il suo campo vitale questo non lo faccio questo non lo faccio questo non lo faccio questo no e si arriva sino a meccanismi di negazione del tipo la favola di esopo della volpe l'uva l'uva c'è erba quindi perfezionista fino ad arrivare alla sindrome ossessiva così le stigmate dell'arulessia sono ossessività depressione isteria quindi discontrollo delle emozioni ossessività precisione perfezionismo depressione ovviamente a seconda dei tip delle persone per essere più presente l'uno all'altro dimmi di essere eccezionalmente in questo progresso di solito viene improvvelato a chi è autoresservato di aiutare una persona ma più direzza di non essere uno che stessi facendo l'attenzione di non avere la parlantina di avere dei momenti in cui vuoi stare un po' più tranquillo un po' più oscilla di un momento di tranquillità momenti di esploverse momenti di tranquillità cioè non capisco è sempre stato passato un messaggio alla persona tutta eh sia il massimo della 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 comunicabilità la parlantina non è avere una quella dialettica ma è saper essere tutto ciù 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 parlare sempre sempre da di sciaio di sfera che non è la parola giusta da di invece soltanto un atteggiamento come ti chiami di mariano è giusto quello che dici nel senso che la società di oggi ma non solo di oggi privilegia uno schema sociale rivolto alla performance che ci imprigiona tutti quante parlevamo prima dei ginecologi ma non solo alcuni ginecologi il problema il problema è il fare al quale si contrappone la vera vita che è l'essere quindi io non faccio il professore io sono professore ma lo sono non 24 ore al giorno i carabinieri sono carabinieri 24 ore al giorno non io mi spoglio di questi vestiti e smetto di fare professore all'università o se faccio una lezione ok mentre viene socialmente accettato o gratificata la persona che è fa che si è fatta dall'ente che ha costruito quello che ha fatto quell'altro poi semmai rivengono quattro infarti però oppure anche no anche qui non vi è una regola se non quella del lo stile di vita che ti rende come? è che uno vuole ma non è che uno vuole nasce con qualcosa che vuole nasce e viene condizionato dalla famiglia dalla scuola dai media da Pinco Pallino a questo io ho l'idea per esempio vado un pochino fuori tema ma solo un attimo la mia idea è che la società stessa crea malattie il fatto che lo psico coso atra terapeuta o ologo sia così di moda non è un buon segno per la nostra società l'utilizzo di sostanze estordenti è vecchio come la storia umana ma non è mai esistito così su larga scala come negli ultimi 50 anni se leggete la storia delle droghe della farmacologia sul libro che sta uscendo c'è un capitoletto apposta così anche le psicocose si approfondiscono queste si vede come dal peyote dell'incas se arrivi però era un uso cerimoniale oppure se uno va in America del Sud vede che appunto su queste montagne c'è gente che si mastica le foglie di coca ce l'ho anch'io l'alma di coca a casa ce l'ho ancora l'infuso tipo il teo la camomilla le cose non fa assolutamente nulla ve lo assicuro mi può tenere un attimino su ma non è un problema questi qua però lavorano da 4800 a 5600 metri di altitudine lavorano hanno una cassa toracica larga due volte alla mia hanno sviluppato geneticamente questa possibilità di incamerare aria una volta e mezzo una persona normale allora l'aspetto della iperattività così come lo si rileva nei bambini è dovuto all'aderenza a questi tipi di modelli e secondo le mie ipotesi vi sono due possibilità di condizionamento uno è dovuto appunto all'aderenza a questi schemi per cui ci sono tanti bambini iperattivi perché ci sono tanti adulti iperattivi che poi siano iperattivi di suo o siano iperattivi perché si drogano con i psicofarmaci antidepressivi oppure con vere e proprie droghe questo è relativamente importante e poi sono iperattivi perché bisogna vendere i farmaci contro l'iperattività dimmi quello che posso concretizzare vedere direttamente quindi le scale si salgono in questo modo si scendono in questo modo o si mettono per esempio parlavano del bambino si mettono le scarpe non si mettono le scarpe o ci si ferma il rosso il bambino impara la scuola non ho capito ma tante volte hanno dire ma vai matematico ma scusa ferma la 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 capacità di far di attingere dalle proprie esperienze è fondamentale per affrontare qualsiasi problema della vita qualcuno ha detto bisogna che facciano l'esperienza è verissimo ma anche qui dov'è la regola aurea non c'è perché per esempio nel bambino devi stare attento perché può rischiare molto grosso l'adulto lo stesso certi adulti tra virgolette le categorie più deboli possono avere dei problemi anche di notevole entità quindi non vi è una regola aurea su tutte se non quelle della come abbiamo ho cercato di spiegare anche ieri quella della pianificazione dell'utilizzazione dei meccanismi o di capire di avere almeno un'idea di quelli che sono i meccanismi di quella persona in questo lo studioso del comportamento può essere d'aiuto ma può essere d'aiuto non è solo un discorso psicologico è psicologico in quanto può avere degli strumenti di indagine adatti e che sono precipi della sua professione ma poi deve essere in grado di tradurlo in un linguaggio chiaro che possa essere adatto al manager al politico all'educatore a chiunque al sanitario e di nuovo si parla di comunicazione di linguaggi e di gruppi efficienti in questo caso in questi casi volti alla gestione di quella parolaccia di cui parliamo un'altra giornata dello stress lo stress che può venire da 5.000 cause diverse ma che in gran parte dipende come abbiamo visto da come noi siamo abituati a vedere a giudicare le cose e anche ad affrontarle ok un'ultima cosa poi andiamo a prenderci un caffè velocissimo che finiamo presto eh ci vuole? dico un'ultima non si vede più tra le risorse di coping tra le risorse di coping risorse personali vi sono alcune eh caratteristiche di eh primaria importanza delle quali non si tiene adeguatamente conto alcune le ho citate parlando con gli educatori che lavorano in una comunità e perché mi hanno raccontato delle loro evenienze e è necessario andare a cercare ecco lo vedete il punto 2 configurazione e tratti di personalità la propensione all'ottimismo l'hardiness che è un concetto che la Cobasa che è una psicologa americana ha definito molto bene e che la nostra Anna ha studiato benissimo e che poi vi racconterà in un altro momento ovvero le tre caratteristiche dell'hardiness sono il commitment il control e il changement quindi la capacità di cambiare regime no? vi ricordate l'esempio che ho fatto ieri del tizio rigidito alla guida? cambia no io ci mancherebbe lo stesso l'impegno ho bisogno di impegno cioè di impegnarmi di canalizzare le energie su una cosa quindi a livello seriale non in parallelo perché non posso fare cinque cose non ne posso fare più che una una volta ma è importante il punto uno del quale non si tiene regolatamente conto lo stato di salute generale non siamo delle pile inesauribili abbiamo necessità di andare a valutare quello che è lo stato di salute generale della persona se non siete medici trovate un medico che funziona e che fate un check up qualsiasi tipo di intervento da quelli educazionali ad altri richiedono una valutazione anche di questo tipo le persone spesso non si rendono conto del loro stato se non dopo c'è una bellissima immagine che io ho messo su un libro che mi ha regalato a suo tempo una allieva di Hans Seeley Chelsea Mercy Smith persona della quale sono innamorato in senso lato l'americana di Cape Cod a nord di Boston un posto dove fanno delle meravigliose lobster sai cosa sono i lobster Lara Ghost è meravigliosa una cosa e persona squisita eccezionale purtroppo sfortunata perché ha avuto un gravissimo incidente stradale quindi è tetraparetica e la porta in giro al marito poverina la classica situazione in cui su un ponte di vicino l'ubriaco va fuori strada e l'ha presa in pieno tanti auguri alla Mercy Smith anche se non la conoscete e comunque se la trovassi no ma non ho il mio computer comunque molto molto realistica ce l'hai il libro disturbi dell'integrazione mente-corpo e loro valutazione vabbè lì c'era praticamente è una zebra che comincia a perdere tutte le fasce nere tutte le stris e si guarda indietro e bellissimo in inglese in americano dice I'm thinking I'm having stress oh forse mi sto sono un po' stressato ecco questo è bellissimo perché rende l'idea le persone si rendono conto dello stress quando ormai è troppo tardi ci sono dei segnali per esempio io ho l'herpes simplex labialis da quando ero bambino e l'herpes può venire per lo stesso psichico fisico tutti e due ricordate lo stesso non è una malattia è una reazione quindi se Carlo Pruneti torna a casa stasera e domani va sulla panna della croce dopo che sono almeno 7-8 anni che non ci va non è allenato la panna della croce è un monte che è sopra viareggio ma è 1846 metri nelle Alpe Quane ed è così è una specie di piramide se io vado su ammesso che arrivo in cima e torno su sano dopodomani sono a fioritura di herpes perché? perché questo tipo di virus che è lo stesso della varicella è presente nell'organismo da quando ti immali e se si abbassa le fece immunitarie questo esce fuori così come l'elicobacter pylori non è che ti fa venire no te lo fa venire ma se è presente quando esce fuori vuol dire che hai un disturbo gastrico quindi una gastrite e una dodenite che può trasformarsi in ulcera tornando al dunque i segnali ce li posso avere ma non sempre sono così visibili come l'herpes simplex e l'abialis che poi è cugino anche nel cosiddetto fuoco di Sant'Antonio o l'herpes zoster quando arrivano questi segnali lo stesso c'è già stato e sono già in una fase di esaurimento c'è già stato l'ho subito e non ero in grado quindi la valutazione dello stato di salute generale e quindi del livello di energia che sono in grado di utilizzare è di fondamentale importanza può essere valutato non in maniera così precisa attenta tutte le volte ma un occhio gli va dato quindi noi abbiamo la signora che sta per avere un figlio quindi sarà in uno stato di è un pochino uno stato interessante d'accordo no? ma è uno stato di rischio perché? perché? ma quello è l'aspetto psicologico ma tu sei fragilissima in questo momento gli ormoni sono già da tempo ormai non c'è problema soprattutto la stanno cambiando capito? vedrai che bello starai benissimo tra poco che bello vedrai meraviglio tra poco va bene questo era un esempio altri esempi sono situazioni di non di malattia conclamata ma di rischio ok? vanno considerati perché queste ricordiamoci noi non siamo delle pile inesauribili quindi nella valutazione anche delle persone mettiamo che devono essere sottoposti ad un intervento educazionale sociale terapeutico va valutato lo stato di salute generale gli schemi cognitivi il livello di autostima l'auto efficacia la percezione di controllo eccetera sono altre componenti essenziali possono essere valutate con o senza strumenti l'importante è tenerla in considerazione se non hai un'idea chiara quindi la manager che è a capo è presidentessa di una cooperativa se deve fare un'assunzione deve occuparci di una cosa deve tenere presente quali sono i pensieri gli schemi cognitivi e gli aspetti di questa persona riguardo all'autostima all'auto efficacia cose diverse c'è bisogno che lo spieghi o vi è chiaro bene e l'ho già più volte ricordato la percezione di controllo di nuovo percezione è di fondamentale importanza lo ripeto perché in queste situazioni può veramente creare delle reazioni tali da non far utilizzare adeguatamente le risorse eventualmente presenti quindi se io percepisco di avere o ho bisogno di avere un ipercontrollo su tutta la situazione o invece ho l'idea che non posso controllare niente l'esternalizzante e l'internalizzante che abbiamo parlato prima è chiaro che questo mi può provocare una non utilizzazione adeguata delle risorse realmente possedute e per finire le competenze le reali competenze sono in grado ho della capacità di problem solving ho della capacità di risolvere i problemi si possono fare anche dei test ma qui non ce n'è proprio bisogno basta metterle in una data situazione o le abilità sociali ecco una delle chiavi dei gruppi gli abilità li chiamano social skills ma sono queste abbiamo ieri mi sbaglio accennato poi per il discorso del leader o del conduttore quindi la persona che è in grado di farlo lo farà ma è inutile che mandiamo una persona introversa che ha una fobia sociale a parlare in pubblico non importa o si sa gestire quindi ha una capacità di gestire la propria ansia oppure no e anche qui stiamo attenti a questa pseudo idea del siamo tutti uguali per cui se lui va a parlare in pubblico deve parlare anche lui ma perché parla lui basta lui farà un'altra cosa possono anche parlare tutte due non è così necessario o capacità per esempio in questo caso non solo dialettiche ma diplomatiche chi sa più ascoltare andrà a parlare con le autorità o altre se uno è eccessivamente estroverso e parla solo lui e si ascolta solo lui ma non ascolta gli altri non può andare in regione a chiedere fondi non ci deve proprio andare ok cioè sarebbe meglio che non ci andasse o accompagnato e con il bavaglio alla bocca e con le mani legate dietro ma in questo caso creerebbe uno shock tale che forse inficerebbe il risultato ora al di là delle scherzi ma ecco questo è molto importante perché altrimenti così come lo stress e altre cose rimangono delle parole e delle etichette vedete il coping che forse alcuni di voi conoscevano ma molti no è un ritaggio enorme che può portare una persona a gestire bene o non gestire affatto o addirittura a gestire male una situazione tanto che questa può creare ancora cioè la gestione la presunta gestione dello stress può creare addirittura ancora più stress dello stress originale comandante pausa caffè tra l'altro volevo dire a tutti che arrivi a una situazione da la 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 soffalieri ci ha offerto gentilmente dei pasticcini che possiamo mandare anche qua quindi se volete anche rimanere qua non scendere grazie